TEDxCremona è appena finito, 450 persone in un teatro non per assistere a uno spettacolo ma per ascoltare, fermarsi e riflettere. Questa è la parola chiave che mi resterà e che mi porterò a casa, fermarsi e riflettere perché abbiamo capito stasera c'era un ferruge fra tutti gli interventi quanto abbiamo bisogno di ragionare molto di più su ciò che facciamo, sugli automatismi. Mi era successo solo un'altra volta un corso di guida sicura dell'automobile e il momento clou era quando giravi il volante alla rovescia, giravi a sinistra per andare a destra e giravi a destra per girare a sinistra. Questo serviva, ci hanno spiegato i nostri docenti, per insegnare al cervello a non andare in automatico ma sempre di essere lucido e di pensare a quello che stiamo facendo. TEDx mi ha insegnato la stessa cosa.